Il Consiglio Provinciale approva la vendita dell'archivio di Stato di Varese al Ministero dei Beni Culturali. L'iniziativa, spiega il relatore Mattia Premazzi, delegato al bilancio, porterà nelle casse di Villa Recalcati oltre 1.400.000 euro e, complice una mozione del centrodestra inserita nel documento finale, consentirà alla provincia di destinare nuove risorse all'edilizia scolastica. Critico e leghista Sergio Ghiringhelli, con questa cessione, dice la provincia perde un altro pezzo del proprio patrimonio storico e culturale. Non sono d'accordo, replica Premazzi, il quale aggiunge che la manutenzione dell'immobile costerebbe all'ente oltre 2 milioni e mezzo. In sintesi, meglio liberarsene nella certezza che, dati i vincoli, non saranno stravolte le sue originarie finalità.